Salve a tutti amici sono Mr.Delleric ben ritrovati qui sul mio canale ben ritrovati in un nuovo episodio di RimWorld Allora adesso dobbiamo fare diciamo così veramente un casino Un casino perché dobbiamo assolutamente recuperare dell'uranio e iniziare i lavori per gli Advanced Component che io adesso ho spostato verso l'alto, gli ho dato un po' una priorità Mi spacco dove cazzo sei? Cosa stai facendo? Stai qua a mangiare tu? Vabbè Allora io vorrei riattivare una serie di campi perché sto vedendo che cominciano a scarseggiare soprattutto le verdure, le patate, il mais e questo genere di cose qua E allora vorrei ridare una piccola spinta Io vorrei, mi spacco che tu necessita di materiali Allora chi cazzo è che dovrebbe scavare qua? Dai, avanti Gary Che invece che cazzo sta facendo? Gary dorme, va bene, non importa Allora, Leone Luxemburg Luxemburg Tra l'altro ho notato con una certa sorpresa Che effettivamente le priorità adesso sono state ulteriormente migliorate Allora andiamo un po' più veloci Nel senso che vedo che i trasporti funzionano molto meglio Il trasporto, diciamo, delle varie cose Inoltre, un'altra cosa che io vorrei fare adesso a livello di ricerca Cosa cazzo mi state ricercando? L'armatura integrale Perché stiamo ricercando l'armatura integrale? Attualmente, vabbè, sì, è utile decisamente Però visto che sono meno punti io andrei avanti un attimo con queste cose che adesso ce le hanno tolte No, con l'aggiornamento, le armi, ok? Le voglio recuperare tutte Io poi vorrei produrre Armi energetiche, vorrei produrre un po' di cosette sfiziose Perché giustamente come mi avete Come un colonno ha bisogno di curo? Che cazzo succede? Cioè, Dolly e Gary se le sono date Hanno bisticciato Sono insultati Vabbè, hanno avuto il loro... Gary è più di là che di qua Ma vedo che già stanno lavorando per sistemarsi Perché giustamente mi avete detto che qua dentro probabilmente ci sarà un qualche cosa che potrebbe contenere uranio Però difeso da qualcuno di decisamente potente da dover battere E io vorrei provarci Ok? Ci vorrei provare Dobbiamo però... Ma mi spacco, tu stai facendo tante belle cose No No, adesso qua così Ah ok, vabbè, è già stato spento Allora, leone Mi serve che tu venga a fare sto lavoro Quello delle piante al momento può aspettare Abbiamo tanta carne, abbiamo tanta roba Al momento si può aspettare E leone invece è andato a fare i cazzi suoi Dai che ho bisogno di metallo No, niente, lui proprio non c'ha voglia Vaffanculo proprio Vabbè, ha deciso di scavare qua dentro Un blocco e basta Però Dopodiché Vabbè, d'accordo Dai, tanto piove ragazzi, va bene Allora, il fuoco Ma tutto nel mio territorio Vabbè che ormai la metamappa è il mio territorio Ma perché questo sta riparando? Ma che cazzo fai, leone? E tu esattamente che fai? Se non ti recuperare dei soldi Bisogni Fortemente affamato Sta terribilmente male Camera solenne Cosa cazzo vuol dire? Stai fermo Allora Sono avido La mia stanza è patetica Voglio una camera davvero solenne Solenne Ma che cazzo Mi stai Indicando Cioè, allora A livello di arte Ci sarebbe leone Che dovrebbe Fare qualcosa Ed edifici Starebbe per costruire Ah, ok E perché leone Dovrebbe costruire Esattamente Allora Togliamogli la costruzione Leone Togliamogli delle altre priorità Ok Allora Una caravana mercantile Ok È arrivata una caravana mercantile Mi serve Agzu Di conseguenza E vediamo Cosa possiamo commerciare Ok La ricerca Se mi fate fare qualcosa Ragazzi Anche a me Non lo so Così Allora Artefatto Del turbamento Artefatto E attivazione unica Lancia un disturbo Psicoco Verso un personaggio Lasciando uno stato Di confusione mentale Per un po' di tempo Che costa uno strafottio Artefatto della follia Artefatto di attivazione unica Spinge a qualsiasi colonia In uno stato di follia Omicidia A qualsiasi distanza si trovi Anche attraverso i muri Artefatto della serenità Artefatto della serenità Questa se mai Questa se mai Avrei voglia di comperarla La yayao Yayao me ne faccio molto Allora Di Plastacciaio Si chiama Plastacciaio Bruttissimo però come nome Plastil Effettivamente Plastacciaio Ne abbiamo anche abbastanza Per cui Va bene così Non c'è nient'altro Avete una merda Avete delle cazzate Proprio Vabbè Però a livello di ricerca Dobbiamo andare avanti Con questa roba qua Ok Vediamo qua dove cazzo Arriviamo Orca miseria C'è un C'è un fottuto muro Ah C'è metallo anche qua dentro Interessante Interessante Questi li possiamo portare via Oh Guarda quanto bel metallo Questo lo scaviamo tutto Non ci sono cazzi Anzi Ordini Scavare Immagino che arrivi fino a qua Ok Adesso di metallo Non dovremmo avere più Grossi problemi Ok Abbiamo costruito Un altro fucile a impulsi Che potremmo dare Tu che hai un fucile a pompa Praticamente Mi equipaggi Il fucile a impulsi Che lo preferisco Ha un po' più senso E dovremmo essere abbastanza a posto Per quanto riguarda poi il metallo Qui Guarda quanta bella roba Allora Qui Tra l'altro Ci dobbiamo fare la stanza Anzi Sapete che cosa La farò un po' più piccola Questa stanza Perché mi servirà Un corridoio Mi servirà Un corridoio Facciamo una Una porta qua Ok Per poter passare Da questa parte In caso Se proprio dovessi Ok Ma sta gente Sta praticamente Facendo i cazzi suoi Cosa cacchio Da rompere i coglioni Allora Pavimento Questo lo spianiamo tutto Questo anche Anzi sapete Smantello qua E ricostruisco qua Ok Facciamo Un'altra porta Qui E potrei chiudere In questo punto Costruiamo una coppia Ok Mi serve una lampada Che mettiamo qua Wow Quanto bel metallo Mi piace Questa cosa Mi piace Avete visto Quanto poco Ci hanno messo A costruire Rispetto a prima È spaventoso Cazzo i letti No dai Dimmi dire Che c'è la ricerca Sui letti Eccoli qua Dai Ricercameli subito Porca Caccio cane Allora Mi serve Il tavolo Mi serve La sedia Ok Ho fatto un'altra stanza Che eventualmente Sarà un corridoio Per passare Poi da questa parte Ok Qua abbiamo raggiunto Poi qua chiudiamo Chiaramente Oh non ho fatto Cosa è successo? Un ride Oh cavolo Allora Abbiamo un ride Allora Dolly Azione Il mortaio Subito Gary Lo portiamo qua Leone Visto che ha questa arma Che comunque Non è a raggio Molto alto Lo mettiamo qui Axu Alla torretta Metto la torretta Dall'altra parte Te Luxemburg Lo mettiamo qui Zulekia La metto Dietro A questo Sacco Senara Qua Anzi Preferirei Mettere Senara Da questa parte E grossoper Da quest'altra Tiger Ha anche lui Un fucile Allora Aspetta Lei La mettiamo Di qua Tiger Anche tu In fucile Ti metto qui E dovremmo essere Abbastanza coperti I cinghiali Partoriscono Come se non ci fossero Domani Le trappole Dovrebbero fare Qualche cosa E iniziamo Già a sparare Sono tanti Eh però Caccatevi Braga Non ho colpito Nessuno Però Che è un peccato Allora Scusatemi Dovevo fare Anche Le capsule Di trasporto Perché se Dovessimo Andare In una qualche Zona Tra l'altro Vorrei aumentare Un po' La benzina Che ci metto Dentro Per una quarantina Di caselle Io non lo so Lo metto giusto Per Sicurezza In modo tale Che se dovesse andare Da qualche parte Ci vado velocemente Per recuperare Del materiale Dovesse servire In caso anche Dovesse servire Mi sa che dovrò Riattivare questo Per recuperare Dell'altro Dell'altra benzina Ok I cani Uh quanti cinghiali Che sono ancora Da dover addestrare Beh in realtà Un po' tutti La pantera Zona animali Voi state tutti In zona animali Per cortesia Femmina Femmina Maschio Femmina Abbiamo Che potremmo mangiare Allora Dolly Dai Vedi di fare Il tuo lavoro Mamma mia Quest'aski La vedo brutta Spike Perché non te ne torni Nella tua zona Nella zona animale Beccati Questa è una cosa Che mi fa piacere Oh cavolo Stanno scavando Stanno scavando Questi fottuti stronzi Allora Gary E ci prendo anche Luxemburg Mettiamogli un po' di Di pepe al culo Guarda questi pezzi di merda Stanno scavando Maiali schifosi Brincato uno Stanno sparando Al mio cane Eh Allora Qui devo mettere Qualcuno Con I coglioni Allora Ci metto Lei Potrei Potrei mettere Anche lui No Preferisco Metterci Zulekia Ok a sparare Se la cavano Piuttosto bene Ok uno E giù Solo che Questa sparerà Delle granate E sarà Assai tosto No E si è Fermato qua Adesso va Di granate Allora Vediamo Aia Mi hanno Brincato Luxemburg Vediamo se Riusciamo a beccare Allora Qua Impostiamo Il bersaglio Lui Madonna A questo punto Prendo anche Leone Eccolo che Hanno Fatto Brecce Via 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 Porca Merda Allora Ne abbiamo Fatti fuori Diversi Ferma il fuoco forzato Allora ci mando lui Che in corpo a corpo se la cava Se la cavicchia diciamo E hanno deciso di uscire di là Vabbè Allora Tu mi prendi Mi soccorri Lei Prendo anche te No scusami No dove vai? Di qua No 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 Ma che giro fai? Allora Gary Adesso ti stanno Praticamente attaccando tutti Vediamo un po' C'è uno che si chiama Belin Bellissimo Vai Grande leone che ha attaccato alle spalle Attacca leone alle spalle Via 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 Scappa Scappa Allora Vediamo come facciamo a spingerli a venire fin qua Usiamo voi eh Come sei a livello di salute qua? Non sei in un pericolo immediato Per cui Vediamo di sfruttarti ancora un attimo C'è questo che è il cappello di magneto praticamente No no Ok Possiamo stare qua Ok stanno scappando Cosa? Chi sta portando via? Ma stiamo Scherzando Mi stanno portando via Zulekia Oh madonna Oh cazzo No mi stanno portando via tutti e due Tutti e due mi stanno portando via No ragazzi No No Non posso permetterlo Non posso permetterlo Allora Porco cane Non so mica se ce la farò No ma dai Mi sta anche impedendo di passare Mi sa che Genevieve qua l'abbiamo persa Porco cane Eh ormai non ce la facciamo più Ne hanno steso anche leone Eh Genevieve qua è andata Basta basta Valà perché mi stai distruggendo tutto Porco cane Maledetti bastardi Porca verda Guarda che schifo Soccorri Zulekia Tu intanto Sparami a questo Tiger mi soccorri Leone Gary Spara a questo Porco cane Guarda che schifo Vabbè Adesso 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 valutiamo cosa caspita fare Ragazzi Ma guarda te Vabbè Abbiamo recuperato Abbiamo da recuperare Un sacco di roba Ci hanno fatto un bel danno Allora io qua Grusopper Ti dico Di catturare Un po' di gente Tu sei morto Vero No Inconscio Anzi Sai che cosa ti dico Mi vieni avanti E mi Continui a sparare A questo stronzo Vediamo se ce la facciamo Vai che siete più veloci di lui Grandioso Ok Almeno questo Mamma mia ragazzi Abbiamo Abbiamo perso Un sacco di roba Cioè Aver perso Un personaggio Mi secca parecchio Vabbè Vediamo Cosa si può fare Cos'è questo Proiettili incendiari Vediamo di curare Chi deve essere curato E Gary Allora Vediamo un po' Chi possiamo Provare a Recuperare Questo non è Neanche male Catturami questo Mentre Grossopper Vediamo un po' Questo com'è Oh Non è male Neanche questo Catturami questo Senra Abbiamo Qualcun altro Che magari Ha messo Mi sa che sono tutti morti Gli altri Vero Mi sa proprio di si Vabbè Sono fottutamente Cazzi loro Oh 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 Guarda A te Gary Devi sbrigarti Serve manforte Senra Senra Oh Oh La Vaffanculo Vaffanculo Davvero Vediamo se Riusciamo A curare Per bene I nostri Personaggi Mamma mia E' stato Orribile Vabbè Purtroppo Non ci è andata Bene Abbiamo perso Un personaggio Vediamo se Riusciamo A recuperare Almeno uno Di loro Vediamo se Uno dei due Riusciamo A catturarlo Che palle Malattia Grave Perdita Di sangue Estrema Vediamo Se riuscire Se riusciamo Capsula Capsula Di trasporto Era questa Si Ok Si stanno Già Adoperando Per curarli Va bene Ok Acceleriamo Un attimo Vediamo Giusto Che De' Arrivare Un qualcosa Ariarmo Automatico Eh Abbiamo Un sacco Di feriti E' un bel po' Di gente Non messa bene Morto Ma vaffanculo Non l'abbiamo Fatto in tempo Crollo Nervoso Luxemburg Luxemburg Ok Non è più triste Però è crollato Allora Soccorriamo Luxemburg Chissà che cazzo C'aveva Luxemburg Allora Vediamo un pochino Non può ripulire Non può far niente Vabbè Adesso vediamo Se c'è Gary Gary cazzo È già in piedi Ok Però vorrei che i feriti Stessero A letto Ok I morti Li abbiamo spostati Uh Qua dobbiamo chiudere Assolutamente Quindi mi serve Facciamo con questo muro Ok Lo facciamo più potente di prima Adesso Animali La pantera Vai dove cavolo vuoi E questi Non so se questo qua Sì forse ce la facciamo A salvarlo Forse Capsula di trasporto Oh Questa è una bella cosa Quella è una bella cosa Ok Eh È stato un momento Piuttosto difficile Qua tra l'altro È stato distrutto tutto Non posso ancora fare le copie È stato distrutto un letto qua Mamma mia Eh Vabbè Un brutto momento Mamma mia Ci hanno portato via Allora Poi vediamo Se questo A livello di prigioniero Al 66% Ce la facciamo Ce la facciamo Basterà insistere un po' Zulecchia Però per cortesia Mi farebbe comodo Se tu riposassi Fino alla completa guarigione Tu tra l'altro Non hai arma Perché sei svenuto male Allora Vediamo se Cavolo Non abbiamo più spazi In magazzino Ragazzi Allora Visto che dobbiamo Consumare un po' Di legna Io questi li riattivo Ti ridò questo fucile Anche se è scadente Non sono neanche sicuro Se sia Che sia il tuo Ma penso di sì Vediamo chi è che ha perso La propria arma Anche tu hai perso La tua arma Solo che non mi ricordo Dove cavolo l'hai persa L'avevi persa qua Per cui Eccolo qui Questo invece Tu avevi un fucile Visto che sei ancora in cura Aspettiamo Ok Tutti gli altri Mi sembrano che Siano equipaggiati Mamma mamma È stato È stata brutta Ce l'abbiamo fatta Per puro culo Allora ragazzi Io ho bisogno Del vostro suggerimento Ho bisogno Dei vostri consigli Spererei di riuscire A salvare questo E magari a reclutarlo Che comunque È un personaggio Tutto sommato discreto Devo equipaggiarmi meglio Quindi devo finire Di fare Determinate ricerche E poi ho bisogno Anche di proseguire Con la costruzione Di questi componenti Quindi fatemi sapere Cosa ne pensate Datemi il vostro parere E noi ci vediamo Al prossimo video Stati in campana Alla prossima Ciao ciao